Dedicheremo due conversazioni a un problema di salute fondamentale per le donne, l'artrosi. E vi faccio vedere subito da dentro l'articolazione perché un'articolazione sana è felice. Guardate, qui vedete proprio un'istologia e si vedono tutte le celluline ordinate felici, potrei dire è un'articolazione che canta quando si muove. E guardate invece il disastro quando l'articolazione è infiammata cronicamente. Vedete il sovvertimento, l'alterazione, sono proprio delle fessure che alterano e feriscono proprio tutto il profilo della sinovia, noi diciamo. I condrociti che sono le celluline che costruiscono letteralmente e proteggono e fanno manutenzione dell'articolazione, tutte sregolate e alterate. E da questa visione microscopica noi andremo a comprendere poi perché l'artrosi ci possa devastare la vita, ma soprattutto come prevenirla e come rallentarne la progressione. Allora, subito la definizione. Che cos'è l'artrosi? Innanzitutto una patologia degenerativa delle articolazioni. In verità, soprattutto i colleghi anglosassi, è una differenza tra la fase prima di infiammazione, di microincendio biologico, che va pian piano a distruggere l'articolazione e a questo poi consegue la deformazione articolare, che è tipica poi della fase avanzata dell'artrosi, sempre meno reversibile. Preversibile. Attenzione, quando noi parliamo di artrosi, non è solo l'articolazione che si ammala, ma in verità tutte le strutture del complesso di tessuti che costituiscono e circondano l'articolazione, viene a essere interessato. La cartilagine, naturalmente, ma anche il liquido, il tessuto e il liquido sinoviale, che è quello che fa letteralmente da lubrificante perché l'articolazione possa muoversi in maniera fluida, veloce e con gioia e senza dolore. È interessato però, attenzione, anche l'osso posto subito al di sotto dell'articolazione, lo chiamiamo osso subcondrada dal punto di vista medico, e importantissimi i legamenti e i muscoli che sono fondamentali per stabilizzare la stabilità proprio dell'articolazione. E a questo cosa comporta? Se abbiamo una progressiva infiammazione, meno capacità di muoversi, quindi limitazioni funzionali e poi deformazione e dolore. Perché ci interessa tanto? Pensate, l'artrosi è la seconda patologia per diffusione nel mondo, in particolare nel mondo ad alto reddito, dopo ischemia cardiaca, anche nelle donne. Mentre nei paesi a basso reddito è la terza patologia dopo ischemia e praticamente ictus. Qual è il punto? Fino ai 50 anni, uomini e donne sono colpiti nella stessa percentuale. Il rapporto si dice è 1 a 1 ed è in genere post-traumatica, cioè sono i traumi i primi fattori lesivi di un'articolazione. Ma in particolare dopo i 50 anni, dopo la menopausa, ecco che l'artrosi triplica nelle donne rispetto agli uomini. Ecco perché vedremo quanto sia importante il ruolo di una terapia ormonale, lo dico subito, per rallentare comparsa e progressione della malattia. Quali sono allora le cause? Ho illustrato prima il trauma e sui traumi vi devo dire fondamentale la riabilitazione post-traumatica, la fisioterapia, per rimettere bene in asse il nostro baricentro, recuperare la completezza motoria. Perché? Perché altrimenti la asimmetria di carico già nei giovani è un fattore di usura precoce dell'articolazione. Ma dopo i 50 anni ecco due grandi gruppi di fattori che vanno ad accelerare e ad aggravare l'artrosi anche in fasce di età 45-59 che se si comportassero bene dal punto di vista degli stili di vita potrebbero ancora rallentare la comparsa della malattia. Ecco gli stili di vita errati. E qui mi devo raccomandare assolutamente attenti, attenti, attenti alla sedentarietà. La prima nemica di tutta la competenza motoria e in particolare della salute delle articolazioni è la sedentarietà. Facciamo muovere i bambini, facciamo muovere gli adolescenti, noi stessi muoviamoci sia camminando la mattina, sia facendo esercizi a corpo libero. Adesso ci sono app, video da tutte le parti. Basta avere voglia, mettete musica, ma muovetemi, muovetevi, muovetevi. Pensate, il nostro corpo può compiere 2000 movimenti e noi ne compiamo meno di 100. Questo significa che già c'è una limitazione funzionale e meno noi ci muoviamo, più le articolazioni soffrono. Ma poi importantissimo il sovrappeso e l'obesità. Ma facile da capire, se io pesassi 20 kg di più, 30 kg di più, le mie povere articolazioni dovrebbero sopportare un carico, come se avesse uno zaino pieno di sassi che mi comprime e mi aggrava il carico su ogni articolazione. Delle vertebre, dell'anca, delle ginocchia, tutta l'articolazione dei piedi, ancora di più se la mia postura fosse errata, piegata in avanti. Ecco che allora il sovrappeso e l'obesità sono dei fattori di accelerazione e di usura già nei giovani. Quindi, normo peso, normo peso, normo peso. Ricontrolliamo questo aspetto. E ancora, attenzione al fumo. Quindi, movimento, 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 controllo del peso, postura, centro appropriato e attenzione al fumo. Ma poi, importantissimi, ecco perché da ginecologa sono appassionata anche a questo aspetto della salute e della longevità in salute, i fattori genetici. Dove abbiamo innanzitutto un'ereditarietà potente. Il 25% delle donne, 26% negli studi più recenti, ha un'artrosi, in particolare delle piccole articolazioni delle mani e dei piedi, che esplode letteralmente a cavallo della menopausa. E questo perché, vi anticipo, c'è un'alterazione del recettore per gli estrogeni. Lo vedremo in dettaglio, del recettore alfa. Che cosa significa il recettore? È praticamente la serratura in cui l'ormone come chiave va a inserirsi e da questa interazione parte il messaggio al DNA, sintetizzami questo, fammi quest'altro, riparami la cellula, eccetera. Se il recettore, la serratura è alterata, la chiave non gira, il messaggio non passa, ed ecco che la carenza di estrogeno è un fattore di esplosione dell'artrosi in quel 26%. Come si fa a capirlo? La storia è familiare. La mamma e la nonna hanno un'artrosi. Mi devo allertare. Perché ho studiato l'artrosi tanti anni fa? Perché l'avevo in famiglia. E quindi ho questi geni, ma non mi arrendo. Gioco d'anticipo, postura, attività fisica, eccetera, 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 ed ecco che il mio corpo dice grazie mille. Però, quindi la storia familiare vi deve dire non può avere a me o il geno artrosico. No, attenzione, posso fare molto perché oggi ho tante informazioni che mi portano a prevenire e a rallentare. Importantissimi, per esempio, gli studi sui gemelli. Pensate, i gemelli o le gemelle monozigote hanno quasi tre volte il rischio triplicato. Quindi la genetica pesa molto. Ma abbiamo anche altri geni che anticipano, per esempio, l'articolazione problema all'anca. Quindi informatevi bene sulla storia familiare perché ci dice dove sono le vulnerabilità, ma anche come anticiparle. Fondamentale, non è in gioco solo l'articolazione, l'ho anticipato, ma anche i nostri ormoni, il tessuto nervoso, il sistema del dolore. Più abbiamo dolore, più si creano autostrade e il dolore diventerà pervadente. Importantissimo anche il sistema immunitario perché l'esercito, quando c'è un'infiammazione, vuol dire uno stato di guerra, ecco che allora avremo un iperafflusso di fanteria, i mastociti, ma anche una iperproduzione di sostanze che aumentano la proliferazione delle fibre nervose del dolore e che mandano veramente triliardi di molecole del dolore a informare il cervello che c'è un incendio. Ma se abbiamo un'artrosi diffusa, ecco che come avere tanti incendi nella nazione, e questo nella nazione corpo, ed ecco che questo creerà un dolore fortissimo. Importantissimo questo concetto di gene artrosico, in realtà oggi sappiamo che sono tanti i geni che possono essere coinvolti, ecco perché io dico, invece di drammatizzare il gene X o il gene Y, c'è un andamento familiare, so che io dovrò essere ancora più attenta a prevenire e rallentare. Sintomi, allora il dolore, il dolore in tutto il nostro corpo ci dice attento che c'è un incendio, c'è un problema che va affrontato presto, quindi non sono analgesici, oggi vogliamo tutti la soluzione subito e analgesici sempre più potenti. L'analgesico è prezioso, ma prima di tutto io devo spegnere l'incendio riducendo le cause di quell'incendio, non solo chiamando pompieri sempre più potenti. La rigidità, perché l'articolazione infiammata è più rigida, faccio più fatica a compiere ogni movimento. La compromissione funzionale, le alterazioni della forma dell'articolazione, che si deforma, e poi l'ansia, la depressione, perché mi vedo chiusa e mi sento chiusa in un'armatura di ruggine. Ma quali sono i segni? Allora basta guardare. Le articolazioni sono gonfie, arrossate, i segni dell'incendio articolare, una limitazione, abbiamo detto, dei movimenti, perdo la forza. La signora che dice non riesco neanche più ad aprire la bottiglia dell'acqua minerale. Il calore, la deformità, ma quando siamo alla deformità, tornare indietro è praticamente impossibile. La diagnosi quindi la faremo su questi sintomi molto evidenti e anche sull'esame obiettivo. L'artrosi è una malattia che parla da sé, nel secondo tempo, quando la lesione è visibile, ma a quel punto miliardi di cellule sono già deformate, si sono già strutturate in una maniera che il carico è completamente alterato e il movimento è limitato. Ecco perché guardare la storia familiare, curare i fattori di prevenzione, peso, postura, attività fisica quotidiana, niente fumo, e intervenire con gli ormoni al momento della menopausa possono essere soluzioni importanti. Le evidenze che noi abbiamo sono formidabili, quindi l'erosione, l'ottura della cartilagine, proprio queste micro ferite che vi ho fatto vedere nell'immagine iniziale, l'infiammazione e la formazione di osteofiti. Ed ecco che allora, chiarissima questa immagine, anche per chi non sia un radiologo, alla vostra sinistra, guardando, è con un'articolazione del dito perfetta. Vedete come il profilo dell'articolazione sia netto, i due ossicini con il loro profilo articolare sono molto ben disegnati, non abbiamo osteofiti, cioè protrusioni, ossee tipiche di queste deformazioni, e tutto il ditino dice come sono felice, per esempio, di suonare. Di converso, alla destra, una falange molto deformata. Voi capite che lì tutti i segni che ho descritto sono presenti ed è troppo tardi per pensare di cambiare l'estino e davvero ci restano gli analgesici. Ma allora cerchiamo di prevenire, lavorando fin da giovani, sul benessere articolare, oltre che osseo, muscolare e cerebrale. Questo è un bellissimo ginocchio ancora sanissimo. Di nuovo, per tutti è evidente quanto sia ben allineato il femore con la tibia. È molto evidente come la rima articolare sia pulita, netta, e quindi la congruenza articolare è garantita. E noi possiamo ballare, correre, sentire sciare il corpo felice. Perché? Perché le articolazioni si muovono in modo musicale, coordinato da tutto l'insieme della competenza motoria. Di converso, guardate cosa succede a un ginocchio artrosico. Innanzitutto, l'allineamento biomeccanicamente perfetto tra il femore e la tibia, in particolare, è alterato. Sono alterati i muscoli, sono muscoli deboli. Ecco perché la perdita muscolare è fondamentale. Perdiamo stabilità sul ginocchio. Abbiamo una perdita di allineamento, della congruenza articolare, come dicevo, ed ecco che la distribuzione del carico, della pressione, su tutti i punti dell'articolazione è alterata. Ma quando il carico è asimmetrico, si usura la parte dove il carico è maggiore. Una questione di biomeccanica. E quindi, quell'articolazione sarà sempre più infaiammata, sempre più gonfia, sempre più limitata nei movimenti, e il processo di degenerazione artrosica viene ad essere accelerato. Velocissimamente vi faccio vedere, se facciamo un'artroscopia, se ne fanno moltissime oggi, cosa vediamo? Vedete come la sinovia sia molto alterata. Questa è l'immagine già più macroscopica, quello che vede il nostro ortopedico, di quell'immagine istologica che vi ho fatto vedere. Ed ecco di nuovo ve la ripropongo per farvi capire perché dobbiamo pensare alle amiche celluline, come il pilastro poi, la piccola unità che garantisce la salute. Queste sono felici e cantano quando noi ci muoviamo, e questa è la degenerazione artrosica. Subito le vostre domande, perché è fondamentale che noi entriamo nel vivo poi, della prevenzione e della cura, che discuteremo molto bene nell'incontro di lunedì prossimo. Dice questa signora, Ho 38 anni, giovane e giovane, ciclo irregolare, comincia a saltare, e ho già molti dolori alle articolazioni delle mani e dei piedi. Mia mamma e mia nonna sono andate in menopausa verso i 45, sono accartocciate dall'artrosi e piene di dolori. Anamnesi, storia familiare, chiedete bene tutte le malattie della famiglia, perché queste ci mettono in pista sulle vulnerabilità, ma anche su come intercettarle e quindi ridurne l'impatto sulla nostra salute. Come evitare questo destino? Qui abbiamo una risposta chiara. Siccome la fluttuazione degli ormoni innanzitutto, questa c'è ancora il ciclo, ma molto irregolare, attiva l'incendio e lo scatena in maniera aggressiva, regolarizzare gli ormoni fondamentali, con una pillola che contiene nome gestrolo o dienogest, che ci aiuta a dare un apporto ormonale equilibrato. Ed ecco che l'incendio si calma e possiamo mettere in atto tutte quelle altre misure per attività fisica, nuoto in particolare, acquagino in particolare, che muovono le articolazioni in maniera musicale e senza troppo carico fino a quando la signora sta bene. Altra signora vicina alla menopausa faceva jogging con regolarità. Improvvisamente dolore articolare alla colonna, alle ginocchia, debolezza, impossibilità di correre, armatura di ruggine. Cosa posso fare? Ci chiede, questi sintomi sono correlati alla menopausa? Assolutamente sì. La terapia ormonale sostitutiva può attenuarli? Assolutamente sì. Ed ecco che questo ci spiega perché anche il ginecologo attento alla salute della donna possa tempestivamente correggere un destino di malattia anche se ci sono dei geni sfavorevoli. Vi invito allora a riguardarvi, a approfondire questi temi sui due siti Alessandra Graziottin o fondazionegraziottin.org Desidero ringraziare il mio bravissimo regista Giovanni Sole e vi aspetto lunedì prossimo per continuare tutto l'aspetto della prevenzione e della cura perché possiate essere, anche se avete dei geni un pochino a rischio, come li ho io, delle ragazze felici fino a 100 anni. A presto e grazie. Grazie a tutti.